Dramma nel pomeriggio di ieri, martedì 4 maggio, a Brignano, Giradada, dove il 46enne Simone Cattaneo è morto al centro ipico Belloli. Cattaneo, perito elettrotecnico di Cavelzano, era in maneggio con la famiglia e praticava questo sport insieme alla moglie e a due figli. Improvvisamente si è accasciato sulla sella per poi cadere a terra. L'uomo è stato soccorso prima dei presenti che hanno chiamato il 118, ma ogni tentativo di salvargli la vita purtroppo si è rivelato vano.